La festa del Porto ritorna, due anni di stop, purtroppo per il Covid, siamo tornati ovviamente con meno tempo per organizzare una festa che dura ben una settimana. Partiamo lunedì con la processione, perché comunque la festa del Porto nasce come festa cattolica, cristiana, si chiamava festa della Madonna alla Scala, adesso festa del Porto. Poi ripartiamo con la festa della gruppa o festa della famiglia, comunque condivisione del cibo, una serata per stare insieme, ascoltare musica, ridere, scherzare. Il Lumachino, quest'anno non ci sarà il concorso, ma mangeremo insieme, rideremo, saluteremo in alto a Paolo Gurini, che da poco ci ha lasciato, come anche il Cencio. In pochi sanno chi fosse il Cencio, invece i Portolotti lo conoscono molto molto bene, uno che dava la sua manovalanza sempre, assolutamente. Poi venerdì ci sarà una serata culturale con Pesaro Sigreta, Biblioteca Oliveriana con la dottoressa Brunella Paolini e 14 saxofonisti della Sax Orchestra. In questa maniera ci alterneremo per il racconto del mare, del Porto, con un breve racconto di Eleonora Rubicchi Mensitieri, che per la prima volta proverà il dialetto Portolotto. Non assicuro niente. Il giorno dopo, la domenica, domenica il motoraduno Benelli, poi ovviamente il lancio delle corone in mare alle 11.30 con la motonave e tutte le altre barche. Poi al pomeriggio bancarelli, obbisti, tanti gruppi musicali, balli di gruppo e poi arriverà la colonna portante musicale della Festa del Porto. Gio Castellani con il suo gruppo e quest'anno ho una netta sensazione che presenterà una sua canzone nuova. Poi fuochi d'artificio incredibili e offerti da San Italia, BS, Calata 15, Vela, ne sto dimenticando tanti, ma è una cordata di personaggi che hanno voluto comunque essere alla Festa del Porto, perché la Festa del Porto non deve assolutamente finire, anzi deve essere sempre più grande e quest'anno abbiamo anche una grandissima manovolanza, quindi qualcuno che ci crede in noi c'è sempre. Vi aspettiamo quindi il 3 luglio, dal mattino a notte, Festa del Porto, Calata Caio Duiglio, siamo lì ad aspettarvi.